Dal 1978 l'Officina Rama di Borgo Tossignano è specializzata nel campo della riparazione e della sicurezza stradale con reparti di riparazione vetture e agricoltura ed un centro collaudo per auto e moto. Da quest'anno inoltre offre l'assistenza a piaggio 3 e 4 ruote. Sempre all'avanguardia nel campo dell'elettronica diagnostica e con personale sempre più qualificato, il nuovissimo simulatore stradale può testare in tutta sicurezza qualsiasi tipo di auto a 2 e 4 ruote e camper. Siamo a Borgo Tossignano in via Allende 9. Grazie a tutti.